Siamo in Confagorà G7 Agricoltura 2024 e abbiamo proposto in piccolo il nostro progetto che abbiamo realizzato a noto in Contrada Buoni Vini ed è un progetto in cui le piante ascoltano la musica. Abbiamo realizzato questo spazio di 2000 metri quadri con 756 piante di moscato bianco disposte in 7 cerchi concentrici. All'interno abbiamo ricreato un anfiteatro naturale in cui d'estate proponiamo dei concerti musica classica e musica jazz. Perché questa musica? Perché le piante ascoltano tutti i giorni musica classica e musica jazz. Riscontriamo in questo modo la migliore crescita delle piante, dei frutti, ma anche una riduzione dei fertilizzanti, un aumento della produzione dell'uva, riduzione dei pesticidi e anche una migliore gestione della risorsa idrica.